Ma questi risultati poggiano, per confermarsi come durevoli, lo cito ancora, sulla determinazione dei governi nel perseguire in primo luogo il comune impegno a riformare la governance dell'area euro sulla base dei quattro pilastri indicati dalle istituzioni dell'Unione e nel garantire in secondo luogo l'impegno di ogni singolo governo a ristabilire nel proprio Paese condizioni di competitività che alimentino crescita equilibrata e occupazione. È quel che l'Europa e l'Italia debbono fare. Non se ne discosterà l'Italia. Non potranno discostarsene il Parlamento e il Governo che scaturiranno dalla ormai imminente, normale prova democratica delle elezioni generali. Non ci si lascia allarmare, signore e signori ambasciatori, dalle tensioni che hanno investito nei giorni scorsi il Governo Monti provocandone le dimissioni. Questo difficile passaggio sarà superato. Banco di prova del senso di responsabilità e della vocazione europea di ogni forza politica sarà il non mettere a rischio i progressi conseguiti dall'Italia attraverso sforzi intensi e sacrifici dolorosi. Dal confronto elettorale uscirà quel rinnovato impegno che il Presidente Draghi evocava. Continueremo a perseguirlo a casa nostra e nel concerto europeo. Ma questi risultati poggiano, per confermarsi come durevoli, lo cito ancora, sulla determinazione dei Governi nel perseguire in primo luogo il comune impegno a riformare la governance dell'area euro, sulla base dei quattro pilastri indicati dalle istituzioni dell'Unione e nel garantire in secondo luogo l'impegno di ogni singolo Governo a ristabilire nel proprio Paese condizioni di competitività che alimentino crescita equilibrata e occupazione. È quel che l'Europa e l'Italia debbono fare. Non se ne discosterà l'Italia. Non potranno discostarsene il Parlamento e il Governo che scaturiranno dalla ormai imminente, normale prova democratica delle elezioni generali. Non ci si lascia allarmare, signore e signori ambasciatori, dalle tensioni che hanno investito nei giorni scorsi il Governo Monti provocandone le dimissioni. Questo difficile passaggio sarà superato. Banco di prova del senso di responsabilità e della vocazione europea di ogni forza politica sarà il non mettere a rischio i progressi conseguiti dall'Italia attraverso sforzi intensi e sacrifici dolorosi. Dal confronto elettorale uscirà quel rinnovato impegno che il Presidente Draghi evocava. Continueremo a perseguirlo a casa nostra e nel concerto europeo.